E' giallo a Beivars per la morte di una pensionata, la donna trovata priva di vita in casa era carbonizzata come parte dell'ambiente dove è stata rinvenuta, non si esclude si tratti di un furto finito male. Almeno mille persone hanno partecipato ieri sera a Fiumicello per ricordare il secondo anniversario della morte del ricercatore friulano, bandiere del comune a mezz'asta, sino a quando giustizia non sarà fatta. Presentato oggi il calendario del 2018 che sarà caratterizzato da 31 eventi fieristici nel quartiere pordenonese ha illustrato anche il primo bilancio di sostenibilità. Poco fa nei nostri studi il presidente del consiglio regionale Franco Jacop ha consegnato all'emittente una targa in segno di riconoscenza e stima per i 40 anni di telefriule in l'anniversario che sarà festeggiato con programmi dedicati. Buone notizie per Oddo, Lasagna e Serena in gruppo e corre verso Genova, intanto è ufficiale l'arrivo di Zampano che ha lasciato prima del previsto ritiro di Pescara. Buonasera, da Telefriuli si indaga a Udine, in particolare in un'abitazione di Via Emilia a Bay Vars per fare luce sulla morte di una pensionata che è stata ritrovata carbonizzata nella propria abitazione. Tragedia questa mattina a Udine in Via Emilia al civico numero 125. L'allarme è partito dai vicini di casa che hanno trovato la casa invasa dal fumo. Dopo accurate indagini si sono accorti che il fumo proveniva dalla mansarda della vicina. A perdere la vita è una 72enne ex infermiera in pensione che viveva qui da sola, Rosetta Quaiattini, una donna che conduceva una vita riservata come testimoniano i vicini e che ha trovato la morte nella sua abitazione. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Udine e i carabinieri, oltre al personale sanitario del 118 che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Sono in corso le operazioni per chiarire la dinamica del rogo che ha seriamente danneggiato la villetta, immersa nella campagna udinese circondata da campi e attraversata soltanto da una via percorsa per lo più dai residenti. In casa c'era una stufa a legna che potrebbe essere all'origine dell'incendio, ma l'abitazione sembra sia stata trovata a suo quadro, elemento che richiede indagini più approfondite. Sul posto è arrivato anche il magistrato di turno, Paola De Franceschi, mentre i militari in borghese hanno perlustrato la zona retro stante l'abitazione, delimitando con il nastro la scena del crimine e raccogliendo testimonianze. A lanciare l'allarme è stato un vicino di casa della donna, abbiamo raccolto la sua testimonianza. Questa mattina mi ha chiamato mio figlio perché aveva la casa impregnata di fumo e allora sono andato su a vedere se era il suo appartamento, che abita sopra di me, mio figlio. Abbiamo visto le spiglie, tutto quello che è, non c'era niente, però c'era un fumerone. Ho aperto la finestra e ho visto che usciva dalla mansarda di questa casa un gran fumo, l'ho chiamato i pompieri perché mi sembra sì, ho detto speriamo bene che non li chiami per niente. La conoscevate? Di vista perché sì, così può, era un po' un tipo solitario, però insomma sì. E viveva da sola? Viveva da sola, era infermiera, in pensione. E per tutta la giornata sono proseguite le indagini dei carabinieri, attività che si sono concentrate soprattutto sulla strana combustione che ha interessato appunto il corpo della donna, una piccola porzione dell'abitazione. Ancora una volta, dinamiche circostanze della morte di una persona potrebbero trovare soluzione grazie alla tecnologia. Infatti gli inquirenti stanno concentrando la loro attenzione su tre aspetti. Il primo, il fatto che stranamente la zona è incendiata nella casa e quella della quale è stato trovato il corpo di Rosetta Quaiatini e come lo stesso cadavere presenti ustioni su parte del corpo. Il secondo, è legato all'eventuale presenza in casa o all'esterno di dispositivi di ripresa, sistemi di allarme, insomma qualcosa che possa aver rilevato o ripreso presenze anomali al momento dell'incendio. Toccherà al reparto della squadra rilievi dell'arma dei carabinieri e del comando provinciale di Udine riuscire a trovare qualche elemento utile alle indagini. Il terzo elemento è capire se veramente qualcuno è entrato nell'abitazione della signora Quaiatini e se volesse cercare in quella casa o se ha sbagliato indirizzo e quindi volesse colpire in altra abitazione dove era sicuro di trovare qualcosa di più sostanzioso. Non a caso sono stati sentiti vicini di case residenti in zona per raccogliere testimonianze e ulteriori dettagli. E la procura di Udine ha disposto il sequestro dell'abitazione della donna a Beivars. Al momento non ci sono elementi che consentano di privilegiare un'ipotesi su un'altra. L'importante è raccogliere con la massima cura e puntiglio tutti gli elementi, così ha spiegato il procuratore capo di Udine Antonio De Nicolo. Nei prossimi giorni dalla procura sarà disposta anche l'autopsia sul corpo della donna. Un incendio è divampato la scorsa notte alla cratiera di Monfalcone. La chiamata di emergenza è arrivata pochi minuti prima delle 22. La centrale operativa regionale sul posto i vigi del fuoco del comando di Gorizia. E' proprio il tempestivo intervento dei pompieri ha evitato che l'incendio si estendesse. Le fiamme sono state domate nel giro di poche ore. E' sempre la scorsa notte si è verificato un incidente sulla A4. Dopo le 21.30 un altro articolato si è rovesciato nel tratto tra l'Isert e il Re di Puglia in direzione Venezia in seguito allo scoppio di un pneumatico. Il mezzo che trasportava bovine di ferro ha distrutto il guard raid centrale. Rovesciando si è occupato anche la corsia di sorpasso in direzione opposta per soccorre del conducente un 46enne di origine albanese rimasto incastrato tra le lamiere e rimuove del mezzo pesante. L'autostrada è stata chiusa in entrambe le direzioni. Un incidente questa mattina si è verificato a Trieste all'altezza del civico 57 di Via dell'Istria tra un'auto e una moto che si sono scontrate per cause ancora al vaglio delle forze dell'Odia. Ad averla peggio il Centauro, il 18enne in sella alla due ruote, è stato sbalzato dal mezzo, ha riportato diversi traumi, soccorso dal 118, è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Cattinara. E restiamo a Trieste dove una guardia giurata dell'Italpolla ha sventato un furto al supermercato Panorama di Via Miramare. Attorno alle 20 di ieri ha intercettato un individuo che stava cercando di oltrepassare la barriera delle casse veloci, poco dopo aver rubato due biro occultate sotto un giubbotto durante un successivo controllo è emerso che la stessa persona aveva prelevato dei pantaloni gli stessi che stava indossando senza rimuovere il dispositivo antitaccheggio. la guardia dell'Italpolla è immediatamente fatto intervenire un equipaggio della volante triestina. È una comunità intera quella che ieri sera si è stretta a sostenere la famiglia di Giulio Reggeni nella richiesta di verità e giustizia, fino a quando non arriveranno, rimarranno a mezzasta le bandiere del comune. Il momento di oggi per noi cittadini di Fiumicello voleva essere un momento di ricordo, momento in cui si analizzassero le ragioni e si avanzassero proposte per evitare tragedie come quelle che sono capitate al nostro Giulio. A me invece ci troviamo oggi a due anni di distanza ancora a chiedere verità e giustizia ed è forse questa la più grande sconfitta che sentiamo. I genitori di Giulio sono sempre presenti a ricordarlo e sono i primi ovviamente a chiedere verità e giustizia mentre loro c'è un paese, c'è una comunità, c'è una regione. Sicuramente sì, i genitori stanno facendo una battaglia che potrebbe sembrare anche contro i mulini al vento ma quando un sogno si fa in due può diventare realtà e quindi loro stanno lottando per dare giustizia al loro ragazzo per dare verità a questa drammatica vicenda e per fare in modo che Giulio possa lasciarci finalmente la sua eredità. Ecco, qui alle nostre spalle abbiamo un collage fatto dal fotografo Andrian con i manifesti che si possono trovare, gli striscioni che si trovano qui a Fiumicello insomma la comunità è unita, voi continuerete? Sicuramente, anche oggi proprio grazie alla comunità l'amministrazione comunale è riuscita a organizzare questo evento e non ha organizzato l'amministrazione comunale, l'ha semplicemente accompagnato perché nasce dal basso, nasce dai genitori, nasce dalle famiglie, nasce dal governo dei giovani, nasce da chi Giulio ce l'ha nel cuore e questo è importantissimo secondo me, ancora oggi dopo due anni la comunità è tinta di giallo e come potete notare le bandiere del municipio sono ancora a mezz'asta. E ieri sera hanno approfittato i ladri della fiaccolata in ricordo di Giulio Reggeni proprio mentre il paese si stringeva attorno alla famiglia hanno fatto visita a due case nel primo caso sono entrati dalla porta principale sono riusciti a prelevare ben 50 mila euro nascosti in un armadio nel secondo caso hanno sfruttato una porta lasciata aperta per rubare articoli di bigiotteria per un valore qui di 300 euro i proprietari dopo la brutta sorpresa hanno sporto denuncia ai carabinieri Una guardia dell'Italpol è intervenuta a sedare una rissa nella zona della stazione delle autocorriere a Udine questo pomeriggio dopo aver notato nella sala d'aspetto alcuni stranieri che stavano litigando per futili motivi ha portato il gruppetto all'esterno della struttura poi gli stranieri hanno continuato la discussione in un vicino piazzale antistante a un supermercato lì è iniziata la rissa vera e propria la guardia giurata ha messo in sicurezza la direttrice dell'esercizio commerciale per sedare la rissa sono intervenute le forze dell'ordine e per medicare i feriti un'ambulanza del 118 l'organico della magistratura è praticamente completato abbiamo la fortuna di avere dirigenti degli uffici giudiziari siamo messi nella condizione di fare la navigazione sicura il problema è che mancano i marinai, gli organici la situazione è pesante come l'anno scorso a dirlo il presidente della Corte d'Appello di Trieste incontrando i giornalisti alla vigilia di inaugurazione dell'anno giudiziario negli uffici giudicanti della regione secondo i dati diffusi oggi ci sono scoperture pari al 42% tra i funzionari al 33% tra i dirigenti amministrativi al 23% tra cancellieri e assistenti e parlando dell'attività della Corte d'Appello di Trieste Dirigani ha sottolineato che metà del lavoro della prima sezione civile è dedicato alla protezione internazionale dove i numeri sono importanti con il decreto Minniti non avremo più giudizi d'appello ma è andato a regime con il 17 agosto e per avere dei benefici dovremo attendere un anno la Black Metal Night di Azzano Decimo il concerto che ha fatto discutere tutta Italia per la presenza di gruppi ineggianti al nazismo si farà ma l'evento in programma per sabato al circolo privato Langward Club di Zuliano sarà nel mirino delle forze dell'ordine oggi infatti il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica si è riunito in prefettura occupandosi anche della manifestazione sulla scorta delle valutazioni effettuate sull'evento per il quale non è prevista e dunque non è stata rilasciata alcuna autorizzazione spiega il prefetto Maria Rosa Lagana è stato ribadito che nessuna violazione di legge da parte dei partecipanti sarà tollerata e chi dovesse tenere comportamenti tali da configurare reati sarà denunciato è stato anche predisposto un servizio di vigilanza per la tutela dell'ordine pubblico dato che in concomitanza in programma anche un presidio del movimento l'altra Europa con Tsipras la crescita dell'azienda passa necessariamente dalla valorizzazione dei suoi collaboratori e questa è la filosofia di Ergon Group realtà di riferimento nella formazione nella consulenza manageriale che ha inaugurato la sua nuova sede a Udine Ergon Group da San Giorgio di Nogaro arriva a Udine in una sede prestigiosa in una Villa Libertine via le Trieste che oggi inaugura la scelta è dettata da motivi che sono una conseguenza del nostro percorso e della crescita di questa azienda che lavora stabilmente nel territorio del Friuli Venezia Giulia e del Veneto e abbiamo ritenuto che a questo punto fosse importante avere una maggiore identità una maggiore rappresentanza sul territorio anche per passare ad un ruolo forse più attivo nei rapporti con le istituzioni nei rapporti con questo territorio e questa regione C'è una forte componente femminile? Assolutamente sì noi siamo un'azienda con l'80% di donne e di questo siamo molto felici perché crediamo che sia un forte vantaggio sia una componente vincente di questa azienda devono bilanciare il lavoro con la famiglia e non è sempre così semplice noi come azienda ci facciamo carico di questa responsabilità e cerchiamo di andare incontro alle esigenze femminili attraverso la flessibilità attraverso dei programmi di rientro da maternità concedendo ad esempio il part time per 24 mesi successivi a rientro Parliamo del prodotto Ergon Group e il futuro dell'azienda La sfida principale del prossimo, già nel 2018 e nei prossimi anni sarà sicuramente la sfida del digitale portare dei servizi maggiormente digitalizzati e unire la conoscenza storica e la metodologia dei nostri consulenti molto qualificati con giovani ragazzi con energie e competenze digitali e che devono essere dell'infa per noi come per tutta la società 31 eventi con rassegne anche di livello internazionale nel calendario della fiera di Pordenone che è stato presentato oggi Pordenone Fiere si prepara a un 2018 molto intenso con un numero record di manifestazioni in programma sono ben 31 gli appuntamenti tra eventi organizzati direttamente in collaborazione con soggetti esterni oppure ospitati e di questi 7 hanno già ottenuto la qualifica di manifestazione internazionale un calendario fittissimo che a febbraio proporrà l'evento principe dell'annata Samu Expo ma anche Cucinare, Acqua Farm e Hobby Show ma per tutto l'anno, esclusi luglio-agosto dedicati alle manutenzioni, ci saranno rassegne espositive I nostri sono veramente impegni importanti nei confronti di tutta la collettività tra queste fiere, 7 fiere internazionali che sono l'eccellenza per tutto il territorio E proprio per mettere ancora più in evidenza questa vicinanza al territorio Pordenone Fiere presenta per la prima volta un report di sostenibilità si tratta di un documento con cui l'azienda rende conto alle sue iniziative e performance di sostenibilità ambientale, sociale ed economica Una fiera che ha più di 300.000 visitatori più di 4.000 espositori e con 60 manifestazioni all'interno della parte congressi si merita di avere un report di sostenibilità dedicato a tutto ciò che la fiera fa per il business, il core business e anche per il territorio e questo è un modo per rendere trasparente la fiera per rendere trasparente tutti quelli che sono i lavori che si stanno facendo e gli obiettivi futuri I più accreditati moltiplicatori calcolano che un euro investito in una manifestazione rilascia sul territorio cittadino 10 euro La Pitina, un salume unico e ripetibile della montagna pordenonese ha superato l'ultimo e più importante esame per potersi freggiare del logo IGP, l'indicazione geografica protetta quello della Commissione Europea è stata infatti pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la domanda di registrazione dei prodotti a indicazione geografica protetta un passaggio che sancisce l'approvazione da parte della Commissione il nulla osta alla definitiva registrazione che arriverà dopo 90 giorni dalla pubblicazione si arricchisce così il paniere di prodotti IGP che già comprende i DOP prosciutto di San Daniele e formaggio Montasio olio tergeste e provada e l'IGP prosciutto di Sauris il 4 febbraio del 1978 nasceva a Udine Telefriuli e per i 40 anni la regione ha consegnato alla nostra emittente un riconoscimento Telefriuli sta per compiere 40 anni era il 4 febbraio del 1978 quando iniziavano ufficialmente le trasmissioni allora in bianco e nero peraltro proprio nell'autunno successivo si iniziò a trasmettere a colori quando questo avveniva ancora a livello sperimentale e quando la RAI trasmetteva il segnale in bianco e nero sono passati 40 anni dall'ora per noi è un traguardo davvero importante e il primo grazie va naturalmente a chi ci ha seguito a voi telespettatori che ci avete espresso sempre il vostro supporto ci avete seguito è per voi in effetti che siamo qui ogni giorno che ci mettiamo impegno ci mettiamo passione nel nostro lavoro nel novembre del 2014 una compagine sociale nuova e rinnovata è entrata dentro Telefriuli e dentro anche le società editoriali Friuli ed Euronews quindi è tutto un gruppo che sta crescendo passo dopo passo verso anche nuovi traguardi che si possono vedere nel palinsesto nel settimanale i nostri quotidiani online quindi un plauso davvero a tutti e un ringraziamento ancora ai nostri soci purtroppo posso dire io c'ero mi ricordo quando Telefriuli ha iniziato le trasmissioni e ovviamente gli anni passano sono passati in compagnia di un emittente che ha sempre rappresentato questa caratteristica locale una caratteristica di essere una televisione del territorio una televisione che ha fatto informazione ha fatto cultura ha fatto intrattenimento ha interessato le nostre comunità ha promosso le nostre comunità quindi quello che oggi è il ruolo fondamentale ancora dell'emittenza locale auguri di nuovo e ancora tanti e tanti anni di trasmissioni e di presenza nella nostra comunità volevo testimoniare questo momento con un ricordo un presente del Consiglio regionale a Telefriuli a ricordo dei 40 anni di attività e di servizio grazie apriamo la pagina degli spettacoli andando al Teatro De Cecco di Codroipo dove è andato in scena Le Prenom Commedia scoppiattante ricca di colpi di scena e di ironia con strepitoso successo ottenuto in Francia sia come pièce che come trasposizione cinematografica quella è andata in scena al Teatro Benoit De Cecco di Codroipo per la stagione ERT ente regionale teatrale del Friuli Venezia Giulia con titolo Le Prenom fu rappresentata per la prima volta a Parigi nel 2010 e l'anno seguente ottenne sei nomination al Prix Simolière assieme all'adattamento per il grande schermo da parte degli stessi autori Mattia de Laporte ed Alexandre de la Palellière al quale fecero seguito in Italia le uscite del film con titolo Cena tra amici e il nuovo adattamento cinematografico Il nome del figlio di Francesca Archibugi sul testo originale tradotto in versione italiana da Fausto Paravidino con regia di Antonio Zavatteri il teatro stabile di Genova ha prodotto lo spettacolo che sta portando in tournée per il circuito ERT dopo il debutto avvenuto lo scorso anno a San Vito Tagliamento in una sera come tante il cast d'attori tutti e quasi ex allievi dello stabile di Genova cala nella parte di cinque amici quarantenni tutti appartenenti alla media borghesia fra offese reciproche che non mancano di ferire prende forma il ritratto di una generazione allo sbando dove tutti hanno qualche segreto da nascondere o da rinfacciarsi in una commedia ricca di colpi di scena e carica dell'ironia tipica della tradizione francese che seppure fra risate induce la platea ad una profonda riflessione su noi stessi teniamole da parte un pacchetto di sigarette lei a posto fuma cosa vuoi che ti dica? è l'unica donna che conosco che ha incominciato a fumare in gravità politica e attualità, eventi storici e sportivi interpretati con l'occhio irriverente della satira sono il cuore della mostra Spirito Divino 18 years ospitata dall'Accademia delle Belle Arti Tiepolo in Bialongheria Udine fino al 28 febbraio inaugurata la presenza del direttore dell'Accademia Fausto De Ganuti e della Presidente del Movimento Turismo del Vino Elda Felluga l'esposizione raccoglie le opere premiate nel 2017 ma anche una selezione delle più belle vignette realizzate nel corso dei 18 anni del concorso Spirito Divino è nato nel 2000 e anno dopo anno è cresciuto costantemente spiega Felluga oggi abbiamo ricevuto oltre 9000 vignette provenienti da tutto il mondo mantenendo sempre centrale l'obiettivo di comunicare il vino in maniera trasversale e torniamo a parlare di noi perché questa sera riparte Effetto Friuli Giovani la trasmissione realizzata in collaborazione con la consulta provinciale degli studenti di Udine il talk show giunto alla dodicesima edizione lascia ai ragazzi la libertà di esprimersi e confrontarsi su temi di attualità ieri nella Salone della Provincia la riunione plenaria della consulta con i ragazzi che hanno discusso i progetti per l'anno in corso rinendosi in due commissioni Salute e Stampa nella prima puntata si parlerà di giovani impegno protagonisti e promotori di novità o comparse di un futuro già scritto l'appuntamento questa sera dalle 21 e 30 e anche quest'anno la famiglia Nonino ha scelto Telefriuli per condividere con il territorio un evento di carattere internazionale quale la cerimonia di consegne del premio che porta il nome della famiglia di distillatori friulani domani la nostra emittente seguirà in diretta l'edizione 2018 del premio Nonino dalle 12 e 15 primi collegamenti in diretta dalle distillerie di Ronchi di Percotto alle 11 e 30 con immagine esclusiva interviste agli ospiti prima invece dalle 10 e 30 le nostre telecamere saranno a Pavia di Udine per la trasmissione Il Campanile e ora la vignetta di Fernando Venturini Buone notizie per l'Udinese per mister Massimo Odo oggi Kevin Lasagna si è allenato in gruppo si attendeva la giornata per capire se potesse convivere con la microfrattura al collo del piede che gli è stata riscontrata e che gli ha impedito di giocare contro la Lazio per la trasferta di Genova invece contro il Genoa Lasagna dovrebbe esserci dovrebbe essere a disposizione e intanto è ufficiale l'arrivo di Zampano all'Udinese già nel pomeriggio era arrivata la notizia che il laterale aveva lasciato il ritiro del Pescara e pochi istanti fa è arrivata appunto anche l'ufficialità del arrivo del giocatore in bianco-nero ma c'è un altro acquisto del quale vi vogliamo parlare riguarda questa volta l'APU GSA Baresi nel nome l'Albania nel cuore e l'APU sulla maglia è questo l'identikit di Franco Busciati neoacquisto della GSA presentato nella pancia del carner dal DS Davide Mikalic Busciati è appena arrivato dal Brescia in A1 dove era diventato una bandiera alla ricerca di un nuovo progetto da cui ripartire mi sembra un progetto molto interessante sempre in crescita con una passione intanto in un posto ovunque la palacanestra l'hanno vista ad alto livello per tanto tempo e mi sembra che anche da quello che mi è stato detto che una passione in città si sta riaccendendo e questo di Udine era quello più intrigante perché non c'è la pressione del dover salire assolutamente quest'anno come dicevo prima sono altre squadre quelle che hanno questa pressione questa è una squadra che sta facendo molto bene io posso essere un'addizione che aiuta la squadra a continuare su questo cammino Hai giocato con qualcuno dei nuovi compagni? Li conosci già? Sai dopo tanti anni che stai sul parquet hai giocato bene o male contro tutti non ho tranne Pellegrino a Trapani ma era veramente un ragazzo giovane e il resto non siamo mai stati compagni di squadra però sono tutti ragazzi che ho giocato contro ovviamente tranne gli stranieri Torniamo a parlare un attimo di Udinese o meglio di Stadio Friuli perché è arrivata la notizia che l'impianto dei Rizzi è stato scelto per ospitare la fase elite del campionato europeo Under 19 in particolare del 27 marzo prossimo si disputerà alle 16.30 una gara che potrebbe essere decisiva per la qualificazione tra Italia e Repubblica Ceca gara che sarà anche trasmessa in diretta da Rai Sport alla presentazione della prima maratonina delle Friuli Venezia Giulia che esiterà questa domenica capriva delle Friuli il sindaco Daniele Sergona ha esposto il desiderio che lo sport possa diventare veicolo di promozione per un territorio e anche rilanciato chiedendo un passaggio del Giro d'Italia dalle sue parti sta mangiando il grissino ha bevuto un bicchiere di vino sindaco è ben inaugurante per la maratomina del Collie in questo caso abbiamo fatto il brindisi speranzoso di riuscita dell'evento siamo ormai a pochi giorni dall'appuntamento abbiamo fatto l'ultimo briefing con tutte le associazioni di categoria con tutti gli organizzatori il comitato organizzatore appunto della quarta maratonia del Collie siamo pronti ad ospitare insomma questo migliaio di agonisti e non agonisti qui a Capriva del Friuli per quanto riguarda questa edizione lei l'ha anche caricata simbolicamente per il discorso del patrimonio UNESCO Bird Accoglio abbiamo intrapreso una strada ambiziosa un paio d'anni fa con le amministrazioni comunali del Collie sono assolutamente convinto che noi dobbiamo riempire di contenuti questo territorio allora assieme anche ai colleghi sindaci del Collie abbiamo detto di rafforzare la presenza di manifestazioni agonistiche come questa ma soprattutto di puntare a delle manifestazioni di eccellenza e io qui grazie anche a Telefriuli la propongo perché non poter ospitare la partenza o l'arrivo di una tappa del Giro d'Italia dobbiamo far conoscere questo territorio nel mondo il nostro Giro d'Italia su due ruote in questo caso potrebbe essere una grandissima occasione è tutto per questa edizione io vi ringrazio per averci seguito l'informazione torna domani alle 19 su Telefriuli buona serata a per averci seguito Grazie per la visione!